oh mamma mia che fortuna se ne ha no 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 vera e no mi dispiace oggi vera non c'è vieni qui fifona no paura ok allora vengo io ah 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 ti ho trovata dai saluta tutta la vitto family eh ciao a tutti quanti ciao 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 guarda cosa c'è vera che cosa granny esatto sai cosa significa questa cosa e urlerai fino alla fine sì perché io sono un fifone no sei un cacassotto no vera non si dice aiuta sto cadendo bene cappellino della vitto family e siamo pronti per giocare a granny play allora volume oh dove siamo adesso aspetta si muove tutto siamo in ma cosa granny guida granny sa guidare la macchina sta attento a non fare l'incidente granny eh dove siamo oh perfetto perfetto allora vittorio io sto già iniziato ad avere un pochino di paura no vittorio devi farti coraggio la vitto family non ha paura di nessuno perfetto oh ah ok vittorio tranquillo è un angolo e questo è un altro angolo allora con r vado sento tic tac tic tac un ticchettio allora mi serve la crowd bar che non so cosa sia oh oh salve io qua dentro non ci entro eh questa è una trappola mi sa che aspetta se faccio oh c'è un interruttore oh io non ci vado alla perfetto qua non ci entro interessante chiudiamo questa stranza questa stranza perché è molto brutta cosa una telecamera ehi ciao mi vedi granny oh ho visto una cosa ho visto una cosa oh una mano c'è una mano dentro dentro ho visto la mano di una era granny no non era granny non era la mano di granny no no chi c'è in questa stranza ah nessuno non c'è nessuno ah ah ma la mano è la mano aspetta ma se non è la mano di granny è la mano di grempa ah ah io non ho mai incontrato grempa da vicino e non ci tengo a vederlo nemmeno ah scherzavo scherzavo io 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 vittorio ci ho sentito sei da queste parti no non è vero non era vittorio era uno simile a vittorio ma non era lui ok va bene uh se l'è bevuta bene vittorio e ne andiamo ok adesso se ne è andato la mano di grempa sta salendo e quindi noi saliamo anche noi però aspettiamo un pochettino perché se no se no poi lui ci vede oh cos'è questo non riesco a capire che cosa sia questo affare però lo porto lo stesso perché sicuramente ci sarà utile oh mamma cos'è quella ok è scomparsa c'era della nebbia là che adesso è scomparsa oh è un quadro vittorio è un quadro ah ah quello laggiù è un quadro ah ah non fa paura a nessuno esatto oh aspettate non facciamoci sentire perché secondo me è stato qui sento dei passi sento dei passi dove 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 destra o sinistra io io taglio il salve è stato un piacere io adesso vado io oh mamma oh mamma no 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 c'è la telecamera pure qui oh mamma siamo fuori sento i grilli non lo so comunque oh un passaggio segreto anche qua cosa c'è qui c'è qualcosa di interessante per favore vorrei trovare qualche oggetto grazie tu sei utile a qualcosa no mi servono oggetti che non si trovano non sono da nessuna parte ho soltanto questa stupida cosa in vano che sembra una barretta di cioccolato che mangerei ben volentieri ma non c'è niente di utile a parte questo non ho trovato niente no ho fatto cadere questo coso ma aspetta ma è un interruttore no è un lucchetto è il lucchetto della porta sta ma dove si mette non lo so sta fermo non far cadere nulla con queste mare di pasta frolla no 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 mi arrendo il mio cuore non si sente più ok abbassiamoci abbassiamoci silenziosamente non facciamoci sentire da quella brutta stregaccia che sta qua sopra oh salve come va io io non sono qui no io non sono qui non è vero io stavo dall'altra parte io sono sempre stato qua giù arrivederci cos'è questo un passaggio segreto dove porterà una barca una barca o le fogne non vorrei che sbucasse it dal nulla anzi non vorrei che sbucasse grempa da qui mica mica ci sta seguendo grempa mica grempa ci sta seguendo io sento dei passi no 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 giù 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 non ci ha visto non ci ha visto non ci ho visti... e io sono qui sento finita... turnsIGN ah per favore non voglio morire se n'è andato se n'è andato se n'è andato ok Allora qua ci sta questa Assicuriamoci che se ne sia andato Qua c'è questa barca Per farla partire non posso ancora farla partire Adesso servono degli altri oggetti E qui dobbiamo cercarli Però andiamo silenziosamente Perché se Greppa ci sente è la fine O se Greppa ci sente Vedo delle porte aperte Ok Non ho la telecamera Ok No non è vero Non mi vedi Cioè mi aspettavo di peggio Sinceramente si guarda però Pensavo di volere subito Ma non è successo Perché la volta Nello scorso video di Freddy Io mi arrivo su No qua c'è la telecamera Ma mi dimentico Allora Vittorio facciamoci coraggio Ok 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 Ma dove mi vedi Non è vero Io sono qua Non ci vedi Greppa Greppa Non ci vedrà Greppa Non ci vedrà Greppa Non ci vedrà Non ci vedrà Non ci vedrà Vero Vero Aia Che botta Oh greppa senti sei un grappare educato Non si basturano le persone così La tua mammina non te l'ha insegnata Adesso basta Ora io salgo sopra E prendo appugni tutti Capito Venite qua Lasciatevi prendere appugni Questa strategia funzionerà senz'altro Ecco fatto Mamma è un quadro di Granny Non è la vera Granny È soltanto tu Ma c'è slendrina? Oh oh È un orologio a fendolo C'è slendrina Oh no 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 Io qua Qua dentro Presto chiudete 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 questa porta Ma perché questo idiota Fa cadere tutte le cose per terra Non è vero Non è Non vinceremo mai questa partita Voglio la mia mamma Oh no inizio già a vedere il sangue Mi sa che se moriamo un'altra due volte Poi succederanno delle cose Molto brutte Ma noi vinceremo perché siamo la vinto family Anche se Vittorio è un idiota E non vincerà per questo Oh oh Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ma qua c'è un altro piano Oh Allora io i quadri non li tocco più Non li tocco più C'è qualcuno qui No non c'è nessuno Meglio Ma quanto è E invece sì E invece sì C'è qualcuno C'è qual Non posso entrare qua dentro Ma no Qui 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 Non far cadere niente Non far cadere nulla Non li toccare Questi cosi Se li tocchi Li fai cadere Mincavolo Adesso Granny Non può entrare Perché non abbiamo fatto cadere nulla Giusto Mica entri che Granny No Sento dei rumori No Salve La telecamera Queste diavolo di telecamere Basta Io i fagioli con la pasta Io voglio cercare gli oggetti Qua c'è qualcosa No Qua Qua c'è qualcosa di brutto E non ci vado Qua sopra non c'è niente Qui dentro c'è qualcosa No Ma cosa è questa Una coscia di pollo Che mi serve la coscia di pollo Si può sapere Mannaggia Tutte queste telecamere Non è vero Io questo pollo Stava già così Quando l'ho trovato No Giochiamo da chi apparello Grappa Allora io tu vai qua Io vado di qua L'importante è che non venga Granny A rompere Le scatole Chiudi Chiudi questa Un condotto Un condotto d'aria No 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 Io sono dietro la porta Sono dietro la porta Non mi puoi vedere Non mi puoi vedere Io sono qui dietro Non ci ha visti Non ci ha visti Posso chiudere la porta O qualcuno si arrabbia Io la chiudo fra Tre Due Uno Ok Non c'è niente Ok Perfetto Posso aprire Non posso aprire Chiudi 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 Non ci ha visti 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 Mamma mia Quanto è brutta È più brutta Della fame Che cavolo ti ridi Granny Che adesso noi vinciamo Posso venire? Non posso venire Non posso Oddio ma non Che come Ecco ecco Mi aveva visto Ecco lo sapevo Ultimo giorno E noi Non abbiamo Raccolto Ancora Niente di utile Si Ma che mi importa Tanto Adesso Perdo Però voglio provare Perché voglio No sentite Basta Voglio vincere Io voglio vincere Volere E potere E quindi adesso Vincerò Non mi importa Adesso vinco Capito? Allora fammi cercare gli oggetti Qua c'è qualcosa No Qua c'è qualcosa No Qua c'è qualcosa Si No Non c'è niente Non c'è Niente Andiamo Andiamo nel bagno Sono nel bagno Non entrate Perché mi sto Oh mamma mia Quanto è sporco Sto gabinetto È pulitissimo Volevo dire È veramente pulito Cos'è questo? Aspetta Questa è una tannica Di benzina La devo portare La devo portare giù? Giù Vi ce la barca Ok Non facciamoci vedere Scusate allora Io sono il meccanico Che mi avete chiamato voi Perché devo sistemare una cosa Giù Vi ce la barca Ecco Io adesso quindi vado qua E nessuno Si farà del male Ecco Ok Ma possiamo incendiare la casa Con questa cosa? Perfetto Perfetto Ok Mettiamola qua vicino Ok No 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 Non aprire la porta Vittorio Non aprire quella porta Vittorio Non aprire Non aprire Ti ho detto Vittorio Perché l'apri Mamma mia Mamma mia No 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 Oh mamma mia Che fortuna Sede No 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 Giù Giù Mamma mia No 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 Non c'ha Vittorio Ma come diavolo faccio a passare di qui senza andare su questa trappola Aspetta eh Aspetta Ma è impossibile È impossibile È impossibile No no Ma cos'è qua Cos'è E ti pareva che c'è una chiave C'è una chiave per fare tutto Ma dove sono le chiavi Le tiene nascosta la nonna Vicino Ce l'ha nascosta la nonna in bucca Secondo me le chiavi No Io vado qua Ne ha messi due Due Basta adesso mi sono arrabbiato E gli do un pugno in faccia Lo so No vera Lo so Oh mamma Cos'è Cos'è questa cosa Un tentacolo Salve Cosa Cosa si fa qui È una festa Sì divertiamoci Cosa c'è qua dentro Cosa Sì Sì è una festa Vittorio Sì No Cosa diavolo Un polipo con un occhio in bocca Ma questa cosa non ha senso Va bene Il video di oggi finisce qui Se volete anche voi Tra parte della VittoFamily La famiglia più pazza del web Potete avere il cappello ufficiale La maglietta Andando su Vittorio Loffredo E Beh E la maglietta arriverà da cameretta mia Qui Direttamente A casa vostra E la maglietta